A tutti gli italiani, attualmente sono disoccupato. Questo mese devo decidere se pagare alcune tasse o comprare il minimo per la sopravvivenza dei miei due figli. Noi giovani non siamo solo il futuro, ma siamo soprattutto il presente. Ma l'Italia crede ancora in me? Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto. Ho concluso.